17 settembre Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato. Secondo Timoteo 2,15 L'aspirazione del credente I desideri presenti nel cuore di una persona sono molto importanti, poiché finiscono con il condizionare la sua esistenza. Quale deve essere l'aspirazione di chi vuole seguire Cristo? Chi ama veramente il Signore ha come unico fine quello di piacere a Lui in ogni ambito, nel rapporto con se stesso, nella vita familiare, in quella lavorativa, nelle relazioni con le altre persone. Per piacere a Dio si stabiliranno delle priorità, si cercherà, prima di ogni altra cosa il regno di Dio e la sua giustizia, cioè tutto ciò che è attinente alla vita spirituale e che contribuisce alla crescita nella conoscenza di Dio e all'avanzamento del suo regno. Per piacere a Dio non si preoccuperà delle opinioni degli altri. Spesso, infatti, la scelta di piacere a Dio si rivela impopolare e non incontra il favore delle persone che ci sono vicino. Chi vuole piacere al Signore, infine, non si lascerà scoraggiare da prove e difficoltà che prima o poi ogni persona incontra sul proprio cammino, ma resterà saldo nella grazia di Dio, consapevole che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Qual è la tua aspirazione? Studiati di piacere a Dio e scoprirai la gioia dell'approvazione divina. Iscriviti alla newsletter per ricevere meditazioni ed aggiornamenti.